Ecco, mi metto in mezzo a voi, bravissime! Pensate, pensate, due settimane di studio, avete visto come hanno reso, è andato bene? Bene! Eh? Ride, ride, lei ride, bene! Comunque andate, andate a riposarvi, è che siete un po' stanche, bene? Ecco, perfetto! Perché lei era la regia, ecco qua, di farvi rivedere questa bambina! Eh, caro Carlo, sai qual è il problema? Smettila! Sai Carlo qual è il problema? È che in America le voci arrivano tutte distorte, sai già qua in Italia quando tu, ad esempio, cadi, dicono che ti sei fatto male, sei moribondo, eccetera, eccetera, invece no, pausa di riflessione, pausa di riflessione, pausa di riflessione, per poco tempo. Tu sei un piccolo baudo, tu sei un piccolo baudo, involontariamente anche te hai scoperto molti personaggi, prima abbiamo visto pericazioni, molto involontariamente. Ce n'è un altro, lo vediamo, un altro personaggio, molto simpatico, molto bravo tra l'altro, suppondo. Nell'88 mi ha detto un morso alla mano, c'era tutto il segno, me lo ricordo benissimo, me lo ricordo benissimo, non è possibile, lo ricordo come fosse adesso. Enrico, scusa, scusa, mi sono ricordata di una cosa importantissima. Anche io guardandoti mi sono ricordata una cosa. Alza lo sguardo, alza lo sguardo. Buonasera. Buonasera. Ridono solo i nostri autori per... Sinceramente me la sono ricordata. Moran, dimmi tutto, è intelligentissima. Beh, ho trovato un filmato rarissimo di tanti anni fa. Che bello, e chi c'è, chi c'è? Ma tu, 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 quando facevi il strip sul centocello. Che facevo io al centocello? Lo strip. Io facevo lo strip al centocello. Signori, vediamolo, eccolo. Ma no, ma no, ma come no? Vediamo, vediamo, ma no, dai. Veramente. Veramente. Benvenuti alla Notte delle Stelle, la più luminosa di tutte. Eccola qua, sto parlando della nuova Mitsubishi Space Star Model A HIA 2003. Ma scusami, ma è la nuova, incredibile, strabiliare. Mitsubishi Space Star, la volete provare? Ma prima ammirate le straordinarie novità della Space Star Model Air 2003, nuova linea, nuovi motori, una vasta scelta di cilindrate Pensate, benzina, 1300 Belle e brave, belle e brave Bene, grazie Morali, grazie la nostra Yurghita Wow, wow, bene, benissimo Allora, Hilary, vediamo che mentre loro ballavano anche adesso Baby rides round, like a record baby, rides round, round, round Beh, beh, magnifico, magnifico Magnifico, magnifico, la nostra Moran Magnifico, sono commosso Buoni che... buoni Il momento... buoni Calmatevi, calmatevi Che si deve allacciare, bene Take the microphone, bene, leviamo l'asta Sei fantastico Thank you Sei fantastico, io ti vorrei tutte le puntate se fosse possibile Se fosse possibile ti vorrei veramente tutte le puntate Sì, sì, tu pure, dammi una pizza qua, no? Allora, eh Senti bene da quell'orecchio? She'll have to repeat herself, I'm afraid She'll have to say again Eh, ripetiamolo È un problema all'orecchio Allora, senti, te lo ripeto Ti vorrei tutte le... Eh, se te lo dico, come fai a sentire? Scusami, come fai... Non facciamo notte, ma ciao Thank you, thank you, thank you Thank you Eh, mi piacerebbe averti tutte le sere Perché sei veramente molto bravo, molto bravo Siete bravi Te lo dico finché non mi rispondi, eh Thank you, thank you Grazie, grazie davvero Grazie Alexia! Eccola, Alexia! Alexia, ma... Queste canzoni Quando le riascolti Come in questo momento le riascolti Benvenuti nel caldo magico mondo di Zucchi 80 anni di premiata attività nel mercato della biancheria della casa E oggi Zucchi ha deciso di riscaldare le vostre fredde serate autunnali Con una collezione di trapunte tutte da scoprire Tutte in puro cotone, tutte con imbottitura anallergica Eh, scusa, che stai guardando? Io adoro Zucchi, adoro papi Pensate, le trapunte Zucchi vengono trapuntate una per una singolarmente Per dare una maggiore cura al capo E donare alla trapunta una morbidezza che dura nel tempo E adesso parliamo della grande novità Zucchi È il nuovissimo trattamento antiacaro Che protegge il capo a lungo dai batteri Rendendo la trapunta più igienica e più sana E se volete colorare la vostra camera da letto, datemi retta Fatelo con le meravigliose trapunte Zucchi Che sono calde, morbide, tutte duple fasse E sono disponibili in più varianti di colore Per soddisfare tutti, ma proprio tutti, i diversi gusti di arredo Vi piace il verde? Eccolo qua Tuffatevi dentro Preferite il blu mare? Eccolo Oppure il rosso tramonto? Voilà Oppure ancora il fiorato tradizionale? Ecco qui E se volete sapere dove si trova il negozio Zucchi più vicino a casa vostra Basta chiamare il numero verde 800 44 99 44 Dai, andiamo Bene, dove andiamo? A comprare la trapunta Zucchi E magari incontriamo pure Papi Zucchi, ti aspetta Per un sorriso più bianco e una bocca Bravissime Brave Brave, brave E c'è Tom Bradford Che vorrebbe rivedere la scena di prima La lasciamo perdere, Tom Oh no, I got the best seat in the house Non importa Tanto ho il miglior posto di tutto il programma qui Attenzione Qui vicino a me c'è una persona Famosissima Ebbene sì Pensate che lui ha stretto Grazie Moran Eccola qui la statuetta più ambita nel mondo dello spettacolo Chi non vuole questa statuetta? Chi? E allora io voglio prendere questa statuetta e consegnarla a uno di voi Carlo Ti voglio consegnare No, no, io ho già vinti due veri Vorrei vincere altri Questo no, grazie Tom Bradford Tom Una statua Dai Tom ti prego Una statua No Nicola Stipe Ma come non grazie? Non hai parlato italiano? Ilari Ecco a te la statua No il tele Sono giovane Sono giovane Questo no Jurghita No Non sia mai Questa la capisce subito Benito Come dai il telegatto che sono allergico ai telepeli No Va via Va via Va via E allora Io questo telegatto a qualcuno lo devo dare Signore e signori Ecco qui A lui Complimenti Tu hai vinto Tu hai vinto il telegatto Alzalo Un applauso Bene Sono davvero contento Perché Alex è venito Venite Ecco qua Pronti per il gran finale Il momento Il momento più piccante Questo è il momento più piccante della serata E l'abbiamo voluto lasciare proprio alla fine del programma E quindi poi andranno i titoli di coda Quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziare L'amabilissimo e bravissimo Tom Bradford Ti voglio chiamare così Ti voglio chiamarti Nicola Voglio chiamarti con il nome d'arte Carlo Conti Molto simpatico che ha giocato con noi E che lo rivedremo a giornale a TV1 Ilari Brasi Passo parola su canale 5 Alexia Forse a Sanremo E poi Moran E Yurdita Per fare un'altra sopranica tra loro E salutare I miei due valletti Benito Eccolo qui Che ritroveremo tutti quanti nella prossima puntata E Alex E Laura Luca Vieni Andate un attimo fuori Mettiti qua Ciao Laura Adesso